Siano dato Gesù Cristo, benvenuti sul mio blog waltersull.it questo è un video che uscirà tutte le mattine dalle 8, dalle 9 alle 10 e sarà un video soltanto per ricordarvi dell'importanza di acquistare i libri cartacei prima che sia troppo tardi quindi in descrizione vi lascio i link per questa pagina del mio blog dove potrete cliccare per acquistare o scaricare i libri io vi consiglio sempre il libro cartaceo del manuale della sopravvivenza della fine dei tempi dove sono raccolte tutte le piante medicinali date dal cielo all'uzio di maria insieme allo scapolare viola e insieme ai rifugi di preghiera che sono delle indicazioni che il cielo ha dato ad altri mistici come lo scapolare viola per trasformare la propria casa in un rifugio di preghiera in un cenacolo di preghiera e attraverso le scorte di cibo, attraverso i sacramentali come lo scapolare viola dove Gesù ha promesso a Maria, a Suor Maria Giulia Genni che coloro che avrebbero indossato lo scapolare viola con la croce e la medaglia benedetta e avrebbero pregato con lo scapolare viola in riparazione della Santissima Trinità le loro case sarebbero state protette dai flaggendi e dalla guerra troverete nel mio blog anche il libro della mia testimonianza e il libro sull'avvertimento universale e il libro sull'inferno io vi consiglio soprattutto il libro sull'inferno è un libricino che ho realizzato e che costa veramente poco con il quale possiamo regalarlo e possiamo farlo conoscere ai nostri fratelli e sorelle soprattutto in questo periodo dove si possono fare tanti regali e il regalo più bello è far conoscere ai nostri fratelli e sorelle che fanno un cammino cristiano o si sono scordati di un cammino cristiano di questo libro meraviglioso che ci parla attraverso i santi e i mistici dell'esistenza dell'inferno io vi porto tutti nelle mie preghiere e come sempre iscrivetevi al mio canale e fate conoscere questi video sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria